ciao giocatrici e giocatori io sono andrea e io sono nicole andiamo a vedere cosa contiene la fantastica bag che avete ricevuto in classe nella bag troviamo la fantastica borraccina di bluetooth la brochure contenente tutte le informazioni per partecipare al torneone e ovviamente la nuova edizione del gioco bluetooth creato da red glove in collaborazione con lucca crea geal e città di lucca procediamo con l'unboxing della scatola e vediamo cosa contiene il regolamento del gioco il tabellone segnapunti i tasselli per giocare da quelli edificio a quelli tubatura a quelli perdita le pedine giocatori per giocare fino a quattro giocatori nicole dammi una mano a separare i tasselli dagli sprue cominciamo una volta torti i tasselli dagli sprue siamo pronti per giocare